buongiorno buongiorno allora il cavaliere c'è il cavaliere sta tornando da milano e sta pure in perfetto ritardo sono arrivato con la freccia rossa direttamente ma ci possiamo accomodare ma due minuti amico io devo prendere un po dare sono stanco sono andati di spagna a via di azz c'è la prova una domanda cavali scusate voi con la borsa siete andato al mercato no no sono andato al mercato dei giocatori dei calciatori mi porto le prove pure le prove sono andato anche a via di azz via di azz via di azz un grande centravanti sta in arrivo diciamo la verità a chi ci ascolta va bene sono verità 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 la tiposeria deve stare calma ok noi ci dobbiamo salvare siamo in operazione di mercato sì mi sono portato al mercato a milano sì la salernitana sta prendendo un altro difensore un altro centrocampista è questa via di azz questo grande centravanto spagnolo mani la salernitana gioca a lecce sì dobbiamo faccio un appello ai giocatori all'allenatore e alla squadra sì sì dobbiamo fare punti la salernitana incomincia il girone di ritorno si mancano 19 partiti all'alba nella mia tabella mi servono 19 punti e 18 sono 37 la salernitana è salva si vende il volino sta operando merita una statua d'oro dove la dai dico a piazza della concordia perché veramente si ha portato a salerno la sincerità l'amore e la gioia il pudiesimo arriva eccolo qua è arrivato buongiorno 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 scusa mi metti un po di trasformo sì perché fa freddo non ci vuole il cappello no perché io ho sentito qualche notizia del cavaliere aspetta no facciamo chiarezza perché altrimenti il cavaliere afferma di essere stato al calciomercato a milano sì lo so in questi giorni è partito ci ha detto e poi me la vedo io e sì perché lui praticamente ha concluso dei contratti lui ha concluso i contratti sul delegato di ervolino del direttore sportivo io sono un personaggio assolutamente daniele io la prima cosa se mi permetti la settimana scorsa abbiamo fatto un'altra puntata 90.000 persone che mi hanno visto li voglio salutare un affetto perché io quando parlo da dire parlo col cuore la mia vita la salernitana allora presidente come terminerà questa gara lecce salernitana adesso dobbiamo un po cambiare rotta perché il girone di andata ormai si è concluso il girone di ritorno inizia con questa partitissima domani sera a lecce campo un po difficile però dobbiamo portare un risultato positivo a salernitana bene e allora ecco l'ultima battuta al cavaliere cavaliere allora questa bomba di calciomercato ce la vuole dire e ve l'ho detto prima sta arrivando un centravanti spagnolo real madrid è un sogno per tutta la città di salerno sono stati anche di spagna a conoscere i giocatori viene con una grande voglia a salerno di far salvare la salernitana e questo ci interessa a noi la salvezza